Fai vedere un attimo il panino quanti hamburger ha? Madonna che schifo! A quattro hamburger? C'ha quattro hamburger! Allora, allora io la butto lì, la butto lì, la butto lì Se questo video arriva a quanti like? Siamo 15 20 mila 15 Non arriva anche a 10 16 C'è Piercanco allo stomaco questa cosa Eh ma 15 mila non ci arriva Ragazzi 15 mila 15 mila 15 mila 15 mila fede... Fede Ale vs Spud Fede vs Spud E il prete fa il giudice E il prete fa il giudice, dai Buongiorno, allora oggi è domenica e ci sanno tante cose interessanti da fare nel mondo Quindi io volevo anche farvi conoscere un tonno spiaggiato questa mattina Io comunque ho la maglietta di Gabbo, è importante lui, la maglietta di Dread Ieri sera bro, le tue prime parole di oggi saranno? Ma è un parto? Citazioni alla home peraltro Profi attiviamo, per favore Profi attivano Ma io lancierei un po' il coduto generale Non lo so te Io ho un tuzzi acqua pelata Con un cerchietto arancione Bro, si additi però perché Mi assetto Anzi è domenica Io posso capire che Dobbiamo essere più rallentati Io sono rallentato tutti i giorni Infatti faremo un Dime leppe No, più che altro volevo chiederti Sporre tu Cosa Come sarà la nostra giornata? Cosa faremo oggi? La nostra giornata oggi sarà praticamente Che zucchero Oh, zucchero Mi serve Purtroppo è l'audismo ragazzi Capitano Comunque ragazzi Ciao ciao le bande Bando alle champions La nostra giornata di oggi sarà che Adesso ci vediamo col prete Per registrare Dei video delle madonne Dove? Al centro Esatto Poi Andiamo a giocare a calcetto Dalle 5 alle 6 Alla Spes Montesacro Tre Ci separiamo Esatto Perché io vado in radio Come trezzo a suolo Roma L'ultima campionata E lui va a fanculo Probabilmente Finalmente Ok signori ci siamo Sono tipo Tardissimo Sono Cioè è mezzogiorno meno 20 Regà Dovevamo stare tipo là Tra 20 minuti Non ci staremo mai Però ci proviamo Quindi partiamo Ok ragazzi Siamo in centro Con evidente ritardo Però la cosa positiva E ci ha detto anche bene È che inizialmente Andiamo a prendere i mezzi Alla fine ci ha accompagnato mia madre Altrimenti saremo arrivati tra due ore La cosa bella È che è una bellissima giornata E adesso raggiungiamo il prete Al Burger King Comunque alla fine è soltanto Mezzogiorno e un quarto Non so se lo vedete Quindi non siamo tanto in ritardo Ma che cavoli hai capito Che vogliamo fare Toccate i velli Mangiamo Stiamo in ritardo Mangiamo Ragazzi ma quindi L'obiettivo di far venire fame a chi vede il video Secondo voi si realizzerà No Ma come no Si vende fame di cosa Guardate che bella Scusa rifai con la faccia Che porco Fai vedere un attimo il panino quanti hamburger ha Madonna che schifo A 4 hamburger C'ha 4 hamburger Allora io la butto lì La butto lì Se questo video arriva a quanti like? 15 20 mila 15 Non arriva anche a 10 C'è Piercanco allo stomaco Eh ma 15 mila non ci arriva Ragazzi 15 mila 15 mila 15 mila 15 mila Fede Fede Ale vs Stude Fede vs Stude E il prete fai il giudice E il prete fai il giudice Io vorrei farvi vedere quanto è grosso sto coso Non lo sto prendendo a mangiare Regà Il video non ci arriva Ma se ci arriva quella Che io non lo faccio anche io Ma già mori per mangiarmi questo Non sa mangiarmi le 10 Quindi non lo va Non lo va perché mori Prima Ok ragazzi abbiamo fatto l'intro del video Che stiamo per registrare E quindi adesso registriamo Poi ci vediamo più tardi Siamo distrutti sono Siamo al mech Sono neanche le tre Tra poco il rivale dobbiamo andare a giocare a pallone Io sono morto Non so in campo proprio rodolo Allora vabbè Mi raccomando Stavolta non ti rompe niente Mi faccio Gioco col tutore Gratta Quanti ricordi Non so dove andrai Ma in ogni parte del mondo Lo sai che per te Io ci sarò Fino alla fine Come un ricordo che non se ne va Pensavo che Fosse impossibile Alla prossima Alla prossima Grande Fede Bello Così vi diciamo Abbiamo finito la partita Abbiamo perso Lo diciamo con enfati importante Ho fatto tutto Giolato di merda Lo dico subito Però ho fatto tutto Uno si può insieme Bellissimo E adesso andiamo a farci la doccia Perché poi si va tutto in radio E' proprio una pippa Ehi Fede 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 Ora va meglio Ok sono le 18.56 In pratica me devo sbrigare Sbrigare Dove pensare meno, ma se tolgo i miei pensieri cosa mi rimane? Lo sai che sono sempre stato il migliore a sbagliare Ti avevo detto non restare Perché quelli che mi stanno vicino alla fine poi si fanno sempre male E allora, siamo qui Sassuolo Roma, ultima di campionato Tante emozioni, perché si chiude un capitolo Si chiude la stagione di Roma Crew, che non è vero Si chiude la stagione calcistica Cioè dal punto di vista delle partite, della Serie A di Roma Crew Perché Roma Crew continua, Roma Crew non si ferma mai Roma Crew vi viene a rompere le palle anche d'estate Soprattutto lui viene a rompere le palle anche d'estate 20 secondi all'Olimpico, 17 secondi Siamo terzi E il quarto chi è? E' finita E' finita E' finita E' finita Non si qualifica E qui lo famo a tre in applauso 1, 2, 3 E questo non fa più io C'è entusiasmo di là, c'è parecchio entusiasmo Comunque ragazzi, al di là degli scherzi Bisogna anche essere sportivi So che mi seguono persone di varie squadre Io una cosa mi sento di dirla Meritava più la Lazio dell'Inter Di andare in Champions League Non ho visto la partita chiaramente perché stavo guardando la Roma Quindi non so come, cosa c'è So cosa è successo Ma non so come è successa questa cosa Dire che mi dispiace Che la Lazio è andata in Champions Da romanista E' eccessivo Dire che secondo me meritava Per quello fatto nel campionato Anche per i tanti torti arbitrali Di cui abbiamo parlato recentemente Che ci sono stati i danni della Lazio in questo campionato Meritava Diciamo che se dovesse esistere un dio del calcio Stasera non si è materializzato all'Olimpico Comunque sia Va in Champions l'Inter Va in Champions e finisce terza da Roma Quindi abbiamo finito la grande questa esperienza In campionato a Roma Crew Ci tenevo a fare questo piccolo Questa piccola parentesi C'è entusiasmo E comunque ragazzi Adesso Dato che abbiamo chiuso Con enfasi non indifferente Mi faccio dire in meglio Di tutte le mani occupate Con la telecamera che scarica Un vero youtuber Fa video anche con l'iPhone Vi dico che me ne torno a casa Perché dopo questa giornata infinita Mi vorrei anche riposare C'è un sequel Qui Che sta caricando Il suo post partita Andatelo a vedere assolutamente Tutto dolce Ok hai visto E no Vi volevo salutare Comunque c'è una colonna sonora importante Bisogna essere No aspetta Bisogna essere sportivi Però questa è per voi E quindi ragazzi Siamo di nuovo a casa La stanza è una merda Come ogni volta che passa mio cugino Ma è tutto normale Sono le 23 e 37 E questo video finisce qui Io spero che comunque vi sia piaciuto Passare una giornata insieme a me Spero che vi siate divertiti Spero di avervi tenuto compagnia Quindi Io me ne vado a dormire Questo video uscirà Lui di 21 Fatemi sapere se ne volete altri del genere Che quando è possibile Ve li faccio volentieri Domani mi raccomando Tutti sul canale Perché uscirà La reazione al pronostico Della classifica che avevo fatto Se vi ricordate A inizio anno Un bacione Lasciate like se vi è piaciuto Noi ci vediamo in settimana Con un nuovo video Commentino qui sotto Iscrivetevi Se siete già iscritti Attivate la campanellina In descrizione mi raccomando Passate da OneFootball Scaricate dal mio link Passate da Instagram Passate da tutti i social E link utili che trovate Le luci proprio pessime Bravo youtuber che sono Un bacione E bella Che non c'era un guasto Ma non hai più scritto Che non c'era un guasto 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 Grazie a tutti.